Oltre 10.000 prodotti tra giocattoli, materiale elettrico, CD lecitamente duplicati ed orologi con il marchio di fabbrica contraffatto sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Ragusa. Le irregolarità riscontrate riguardano una serie di violazioni al codice del consumo. Ad essere commercializzati erano prodotti non sicuri, sprovvisti di certificazione ed etichettature relative alla loro provenienza dalla composizione merceologica per un valore complessivo di circa 35.000 euro. L'operazione ha portato nel dettaglio a sequestro di oltre 2.600 confezioni di materiale elettrico, 5 orologi con il marchio di fabbrica alterato, 84 CD e soprattutto oltre 8.000 giocattoli privi del marchio della Comunità Europea delle indicazioni di provenienza e delle caratteristiche informative e minime per la tutela dei consumatori. giocattoli quindi che potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i bambini, soprattutto ora che si avvicina il periodo delle festività natalizie con i relativi regali. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura per frode in commercio e segnalato alla Camera di commercio di Ragusa per le sanzioni pecuniarie che vanno da 1.500 a 10.000 euro. Resta dunque alta l'attenzione delle fiamme gialle ragusane a tutela dell'economia locale, visto che la vendita di prodotti non sicuri, oltre a minacciare la salute dei consumatori, soprattutto come accennato in vista delle festività di Natale, sottolineano i militari, altera pesantemente anche il regolare funzionamento del mercato, penalizzando gli imprenditori onesti.